Siamo in finale, penso strameritata per quello che abbiamo fatto vedere durante l'anno, ma anche per questi 120 minuti dove abbiamo dominato una partita che purtroppo sempre per queste palle inattive, per alcune disattenzioni, non siamo riusciti a chiudere al novantesimo. Però la partita è stata fatta bene, faccio i complimenti veramente a tutti perché subire un gol a tempo scaduto e poi fare un tempo supplementare come quello che abbiamo fatto non è da tutti, è dimostrazione di carattere, di personalità e veramente complimenti a tutti i ragazzi. Ma sì, noi oggi siamo venuti a giocare cercando di mettere in risalto le nostre qualità che sono la tecnica, la qualità dei nostri giocatori, il fatto di imporre il nostro gioco, di fare la partita. È l'unica strada che abbiamo perché abbiamo una rosa che può fare questo tipo di gioco ed è stato un peccato soffrire così fino alla fine perché è una partita dominata, una partita veramente fatta bene, non ci meritavamo di andare sui supplementari. Però è stato anche più bello. Sì, l'ho detto già durante l'anno che spesso nel girone di ritorno ci siamo trovati con ragazzi magari nazionali o in prima squadra e chi ha giocato al posto di chi era andato in prima squadra ha sempre fatto bene, ha sempre fatto il suo. E oggi hanno dimostrato di far bene, abbiamo dimostrato di avere una rosa di qualità non solo in 13-14 giocatori ma nell'intera rosa. Grazie.